Musica Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di GeneticDNA e in questo nuovo video di GTA V Innanzitutto voglio dirvi che sono ancora vivo, anche se ho un paio di giorni che non carico più Quindi ringrazio tutti quelli che malgrado carico pochi video continuano a seguirmi E tutti gli altri va bene Incuratevi Allora, avrei dovuto fare qualche gameplay di Splinter Cell e di Assassin's Creed Ma onestamente, lo dico onestamente, non ci sto nemmeno giocando Assassin's Creed praticamente ho portato avanti solo Batman, Assassin's Creed 4 praticamente è ancora lì Oh, quindi l'ho stirato a secco Niente, andiamo a fare qualche missioncina con Trevor E quindi niente, praticamente mi manca proprio il tempo materiale per fare video Anche perché sto facendo tanta preparazione per la stagione invernale Visto che io faccio il snowboard E ormai l'età è quella che è Una minima preparazione, visto che ormai Non faccio più Aspetta un attimo che mi sono perduto qua Arca puttangela E quindi niente Pazientate, se volete pazientate Comunque arriveranno, eh, arriveranno Arriveranno Non so quando, ma so che arriveranno Magari questo weekend Tra l'altro buon weekend a tutti Ulla, che casotto che c'è qua Non è ancora un po' Tu è ancora un po' Ma cosa per questi due? Chi che vince, si vince, si vince Ha scontato Ah! 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 Ad esempio E mi è ? Ah! In feeling their lives their host, E io So Oh, yeah, he seems it. What the fuck is wrong with him? I'm out. No, don't go. Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't, but we hear that Trevor Phillips' cooperation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing! Tu sei ubriaco, cazzo, sei fatto, amico. Bene, proseguiamo. Comunque stavo dicendo che magari questo weekend mi metterò a portare avanti magari di qualche missione. Splinter Cell, così dopo sono solo da uploadare. Sì, lo so che lo dico ogni volta, ma che cazzo. E' quello che ha il telefono con su Windows Mobile. Più di cubettoni. Uh, che pelo che gli ho fatto. Ok, raggiungiamo la nostra destination, facciamo un paio di missioncini, facciamo questo gameplay abbastanza lungo, lungo, lungo. Arriviamo almeno quasi ai 30 minuti, dai. Un bel 30 minuti quasi insieme, che è un po' che non... Faccio un po' di bordello. Che sto qua? Quello è fatto, completamente. Ecco, bravo, vai dentro, lì nel coso di ghiaccio. Dai, va dentro anche te. Voilà. Oh, oh. Ma ora ragioniamo. Qua che bello fucilazzo che c'ho. Dai che facciamo un po' di casino. Morite, pezzi di merda, morite. Vediamo se riesco a prendere la, 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 la stazione lì. C'è un bel bot. Cazzo, non riesco a prenderla. Eh, l'ho presa. Oh, fancia che botta. Quella. Santa derelita. Dove sono? Eh, muori. Violenza, violenza. Un po' di violenza. Dove sono? C'è ancora uno lì sotto, il bestardiello. Perché devo spostarmi. Eccoci qua. Eh, muori. No, non caricare adesso. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Ok, forse non dovevo scendere di qua. Ah, ah, ah. Poi chi se ne fotte. Ops. L'ho ucciso. È morto. No, perché torna anche. Forse meglio. Adesso. Aspettate, eh, che mi sono incruciato giù da questa cosa. Sì, raggiungiamo il tizio lì. Dove cavolo stai, tizio? Sei qui? Eccoli qua. Oh, grazie. Questo mi piace, questo mi piace. Miau. Boom. Ecco. Uh. No, dov'è? L'ho perduto. Vabbè. Oh, oh. Vabbè, ci si può fare. Come and the door. Get down. Oh, ooh. Come and the door. Du 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 du. It's bad. Beh, l'ho perduto. Vabbè. 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 Dove sono gli altri? Eh, che bel pesticino che c'è qua. Cazzo, ha distrutto il negozio, porca puttana. Eh, guardateli qua, tu sei ancora strafato. Io credo che abbiamo visto abbastanza sufficiente. Gaito! Oh, prenderò e signorare i contratti, ok? Solo ignorare i cori. Ehi, Trevor, stiamo ancora a cuocere quella batch? F***o sì! Ok. E' il furgone. Eccolo qua, il furgone. Track e adesso raggiungiamo il... Punto là. Che palla? Non posso... Allora... Porca troia! Stavo leggendo un messaggio sul telefono e non ho visto la strada. E la luna! Allora, vediamo di capire un attimino com'è la situation qua, eh. Ehi, tu! Cosa succede, Ron? Sono qui per te. Qui, per te! Chi era qui? Quei bicchiere! Dopo che ti uccidete Johnny K? E hanno ammigato il mio... E hanno ammigato il mio... E hanno ammigato il mio... Ciò, Holdio... Non è che prima sia... Questa staccia di impotente, questo mi ha significato più di me che Johnny K ha significato a qualcuno e li hanno scoperto! La crisi di vita più patente, la città di rodo, la pelle di freddo, la pelle di freddo, chappi di freddo, freddo di freddo! Sono freddo di freddo, Trevor, sono freddo di freddo di freddo! Sperate, sperate, tu piccola! Oh, oh, oh! Michael fucking Townley, certo? La bambina, due ragazzi, 45 anni, trovi? No, thank you, c'è un grande, grande place, Trevor, c'è un po' di persone! Stono questo! Che freddo di freddo! Sì, scoprivi chi ha fatto questo robbio, ok? E se Michael Townley vive là o chi si chiama con la descrizione, io farei a te e a te freddo di freddo! Amo chiaro? Sì, Trevor. Grazie, Wayne. Ora, smile! Eh, ok? Allora, run! Allora, run! Allora, run! Allora, run! Non credo che hanno freddo di freddo la mia statua di imponente rage! La città! Eh? La fucking città! Ok! Ok! Oh, fighissimo! Prendiamo uno di questi! Wow! Il quad! Sì, il quad! Voglio prendere il quad! O te! Vai col quad! Vai col quad! Vai, 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 vai! Vai, arrivo prima io a fa un culo! Tu ho il tuo quad! Vai, tacito! O che vuoi comprare nel freddo? Non compro niente! Ho bisogno di un freddo di freddo con un scopo alto di potenza! Diciamo di supportare il business locale! Beh, stiamo parlando di trovare se questo è vero! Melvin! Come ti senti? Questo è il freddo che ho bisogno! Allora, prima ci prendiamo un giubbino! Voilà! Un bel giubbino! Ok! Ok! Ok, poi! Dobbiamo prenderci il fucile da cecchino! Eulala! Cazzo! Perché questo non ce l'ho nel multiplayer? C'è solo quello sotto! Eh, ma sì, un bel giubbietto! Facciamo così! Ok! Direi che... Ma, se prende un po' di... Ma prendiamo anche questo! Bene, 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 bene! Bene! Abbiamo equipaggiato il nostro... Mettiamo questo anche di freddo! Ok! Ho preso il fucilazzo da cecchinaggio con il silenziatore e il super mega mirino! Che tanto non so mirare tanto bene, quindi... Soprattutto di notte! Oh! 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 Povero capito! Oh! Povero capito! Adesso... Adesso... Ci mettiamo in posizione! Oh! Wow! Ma è proprio bello! Track! Quanti giovani sono stato qua su? Quanti giovani sono stato qua su? Con il cappellino da pescatore! Vai! Eh! Ma no, l'ho mancato! Ma non è possibile! Ancora! Ma sono proprio scemo! Ma che cazzo! Eh ma che cazzo! Ok! Eh! Eh! Vabbè! Va bene! E' una! Ma Dio madò il... Biiiip! Speriamo che quella lì! D'accordo di este! Guardate un po' cosa c'è là! Il... Il... Stai calmo! Adesso l'ha ucciso! Ma... Immagino! Un po' di stagione! E' un ucciso! ...è la mia... un attimo, eccolo lì, vai ok eccolo lì eccolo lì un altro che viene fuori dalla tàu deve essere cercato per lo che hai scoperto hai scoperto? lui ha trovato! scoperto, oi ci sarà scoperto! uh! all'inizio va! scoperto! 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 e non c'è nessuno per uccoperto quindi andiamo all'inizio del gas e mettiamo la bomba non posso! c'è qualcuno che viene fuori dalla tàu posso sentire su quella porta scoperto che vuoi te? guarda qua che c'è una lampadina uh! guarda che c'è lì stai zitto! la roba di coglioni c'è 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 così è bello buio oh! sei contento! oh! sei contento! c'è 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 calmo che arrivo calmo amico mio quello non dura un pezzo ma merda ecco uh! uh! che culo eh! cosa? oh madonna per questo c'è certo sparo subito andiamo 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 via ciao ciao ottimo ottimo uam andiamo via devo tagliare un pezzettino ormai quando vengo disturbato intanto vi faccio il gameplay porca puttana ahia mi sono impiantato contro questo muro qua adesso andiamo a fare un bel bordello eeeh stai zitto ha vabbá e lo rompete il cazzo dai ! fa culo via più veloci figo aereo mio mio come no no sei scemo e allora fai niente giochiamo oh santo dio vabbè dove sei? ma che cavolo vuoi? ok si praticamente l'ho preso ahah sto sparando l'aereo ma porca troia boom eh non c'è tempo per usare l'ombra? vai ronald ma che cazzo? oh santo dio aspetta eh che idiota eh chiamino volo eh eh wow che figo ottimo ottimo siamo in volo stiamo sorvolando una parte di questa mappa guardate che figata con le montagne il lago e ora genetic si schianta contro una parete perché lo so già quindi piano pianino oh guardate che figata ok io non sono proprio un un pro con questo poso non Ne sai pure sono buni le mancano un pelo ok wow Ehi, ehi, ehi Ok, deduco ok 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 Oh Ok cerchiamo di lanciarglielo dentro lì Oh Oh Prego Oh che sticcato Il riflesso del sole sull'acqua No ma che bello Bene bene mi piace Ci piace Perché ultimamente sto giocando tantissimo A GTA online Quindi per quello che sto cagando un po' con gli altri giochi E' un po' con gli altri giochi E' un po' con gli altri giochi E' un po' con gli altri giochi Andiamo più giù Andiamo più giù Andiamo più giù Andiamo l'acqua 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 Che bella l'acqua Vabbè Voilà Ok non penso che mi interessi molto l'acqua Quindi adesso ci spostiamo Velocemente In traiettoria In traiettoria Ci spostiamo Eccoci qua Nella traiettoria Adesso facciamo l'atterraggio Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo No Aiuto Non trovo la pista Oh aiuto Cazzo Eh Eh Che atterraggio da pro Eh Oh dio Si va bene No Oh cazzo Che culo Non mi è esplosato l'aereo Non so come mai Yeah Atterraggio Di fortuna Quindi adesso lo Voilà E vabbè L'abbiamo ammaccato Un pecchettino Io credo che questa è stata una restituzione adecuata adecuata per la mia statua impotente Rage È stata una statua molto buona Trav È stata una buona buona Un pezzo di plastica Ma Non c'è un prezzo per l'attaccio emotivo Cioè Tu potresti perdere la tua Per evitare la mia La mia Cioè 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 Buona idea Non c'è tempo Di questo ora Perché abbiamo più Rons Rons E se c'è una cosa che hanno bisogno Nelto di questa grande piazza È GUNS Trevor Phillips Industri Tecnica Expertise Managerial Innovazioni Un Stoppabile Oh Cioè Cioè Ora Voi Prego Meditare O Masturbare O 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 Ok Qua dovremo Comprare le varie proprietà Bla 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 E ci daranno dei soldi A ogni tot Quindi ok Fico figo Sì Bello Questo mi piace Ok Niente Qui Siamo a posto E siamo giunti alla fine di questo gameplay Quindi Vi ringrazio ancora tutti E vi aspetto ai prossimi Ciao ciao da GeneticDNA E buon weekend a tutti Grazie